salve a tutti da casa del papi mi tocca fa pure il controllore in questa casa devo stare attento suami non te puoi metter sole con 40 gradi dai che già la capoccia non è che va proprio tantissimo bene suami o suami no ar sole dai no ma che fai io ma fammi sentire la testa se è calda ma senti che roba suami non te puoi metter sole così dai levati dal sole dai io mi tocca controllare tutti l'altro giorno ho tolto pure il tottino dal sole l'altro giorno ancora prima ho tolto anche la mammi dal sole che era abbastanza pesante la situazione dai levati dal sole dai dai che c'èmo le capocce non possono star sole in questa casa vero suami dai suami te devi levare dal sole e tutto questo succede a casa del papi ciao